Siamo contenti di partecipare A una gara che comunque rappresenta l'eccellenza del territorio in cui viviamo Della Valle dell'Aniene, nord e est di Roma La medievale appunto passa sui borghi con i maggiori castelli medievali E anche in ottima conservazione Avremo bisogno anche da parte delle istituzioni di maggior comunicazione Perché è importante che si sappia anche all'esterno della nostra provincia Grazie! 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 Grazie!